Adesso vi racconterò di come sono sopravvissuto a Napoli. Via! Innanzitutto questa è una bellissima foto della me che vado, questa è una foto della chiesa che è là vicino all'hotel Questo è il bellissimo hotel con 4 stelle, non si può aprire il terrazzo, molto bello Questa è una sedia, guardate che bel bracciolo, facilissimo sedersi Vabbè, 4 stelle ragazzi, quello condizionatore guardate bene, ogni secondo che di più si spostava Bello a Napoli, bello come hotel a 4 stelle In pratica sono da solo Ah, nel mezzo è una notte che stavo girando lì, ho sentito sto rumore, guarda cosa trovo Mi trovo la gente che taglia i pali della luce Bello eh, adesso ve lo metto avanti veloce il video che taglia la luce, perché sennò dura due minuti Adesso terribilissime foto della reggia di Caserta, questa era l'entrata, queste erano le stanze interne ovviamente con i quadri affreschi, molti affreschi Poi questo articolo di giornale, che non mi ricordo cos'era, questa è, non mi ricordo come si chiama Comunque tutti gli affreschi, i dipinti che erano in giro, la struttura della reggia Che è una casa grande come Gesù in pratica Prendi un'azienda, un'azienda agricola qualsiasi, la grandezza è quella E questa dovrebbe essere una casa, capito Se volete sapere informazioni sui quadri, è controllato un libro di storia, perché le mie facoltà si limitano Ma comunque eravamo in giro con sto apparecchio Sto auricolano è legato a una cassa bluetooth Che andava malissimo Ma fuolo forse perché il mio era scalico, ma vabbè Questo è il presepe, bellissimo presepe Non sto scherzando, era un presepe, quindi c'ho ragione Qui censurerò tutto Vabbè, questo è un mio piedino, bellissimo piedino Questo è il Vesuvio Beh, si capisce Questo era dal Caravaggio, mi sembra Una bellissima statua Ovviamente non ho fatto foto alle opere perché sono stupido Questo è Maradona, a proposito di Maradona Io ho gridato Maradona, merda E non mi è successo niente Questo è il Vesuvio esploso, che bello In realtà era un ristorante, mi sembra Ah, questo è Pompei Morta, perché il Vesuvio esploso ovviamente Quello era in fondo il Vesuvio Queste sono le rovini di Pompei Qui, mamma mia Bellissime Davvero bellissime Mi ricorda qualcosa a Pompei comunque Tipo Bo parte 5 di Jojo Per esempio L'affresco del cane Che forse l'ho fatta la foto Bo, sì, ecco un cane E un pene Pene nel senso di farlo Vabbè, bellissime sculture Pompei Ah, poi per qualche strano motivo Una foto Questa È diventata una GIF Pene nel senso di Vesuvio 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 Pene nel senso di Vesuvio